Nei campi di grano, nei boschi al di là del fiume, si nascondono storie millenarie, dimenticate nell'incuria, lontane dalle mete turistiche. In questa valle, divisa in due da acque e monti, si sono combattute guerre secolari. Oggi è un viaggio di memoria ad unire Pisa e Lucca. Ci mettiamo in cammino per riscoprire le fortezze di confine e le persone che con speranza e amore custodiscono le loro storie. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!